Sweet Acide è il titolo dell'ultimo lavoro o del primo lavoro di Alessandra De Vita. È organizzato dall'Intervilla, all'Hotel Palace si tiene questa importante presentazione. Allora Alessandra De Vita, spiegaci un po' il perché di questo titolo e quali sono i motivi che ti hanno spendo a ciò. Acide è quello che mi chiedono tutti perché lasciano un sapore un po' amaro. Sweet perché mi rifaccio alle sweet musicali, nello specifico in particolare io mi riferisco alle sweet inglesi di Bach perché poi ogni paragrafo dei racconti che costituiscono il romanzo, perché è un romanzo che si articola in racconti, sono tre storie di tre donne diverse, di tre fasi della loro vita, è denominato da un tempo di danza barocca che poi erano quelli che costituivano appunto le sweet barocche di Bach, le sweet inglesi, le sweet francesi. Si danza, si danza attraverso gli anni, attraverso le generazioni e io comincerò a scriverlo durante la pandemia. Benissimo, ma che cosa vi previscete con questo libro? Avendo anche dei risvolti benefici? Per ora ancora non ci abbiamo pensato, anche perché è la prima questa sera. In realtà io sono molto ancora stordita perché non pensavo neanche di pubblicarlo quando cominciavo a scriverlo e il mio intento principalmente era quello di lanciare un messaggio forte, di condividere una storia forte che non è autobiografica ma che comunque riflette un po' quello che è stato il mio percorso. Un percorso non facile, segnato comunque da molti ostacoli, da molte trappole, da fasi anche molto dure legate al lavoro, alla necessità di affermarsi, più che di realizzarsi, proprio di riuscire ad autodeterminarsi che penso dovrebbe essere il diritto di ognuno, di ogni donna, di ogni giovane donna ed è una cosa che viene sempre più a latitare in Italia e in particolar modo qui al centro-sud. e la pandemia purtroppo ha aggravato questo stato occupazionale che poi danneggia anche lo stato psichico perciò poi ho deciso di pubblicarlo perché volevo che altre persone che si sentissero come me che si fossero sentite come me potessero in qualche modo riuscire a sentirsi meno sole. Siamo con la governatrice Liliana Delgrosso e allora il motivo di questa sponsorizzazione per questo libro? Il motivo è semplice, quest'anno noi siamo un'associazione femminile, l'Innerwill e ovviamente è donna quindi è un piacere presentare il libro di Alessandra De Vita stasera tra l'altro è anche una socia del nostro club, del club di Battipaglia e quest'anno il motto internazionale più degli altri anni si rivolge alla donna quindi si rivolge alle donne professioniste, alle donne che vogliono iniziare un'attività e quindi era doveroso presentare questa sera il libro di Alessandra.